Musica 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 Tre secondi per effettuare un tiro per Pizdoia Rimessa effettuata da Ron Moore Lecce a prende palla a Nolts, Ken Sheshut da parte del folletto del Kentucky, avversario, presso un Desmond Nolts. Anche questo è un fattore della sfida, otto doppie doppi in stagione per Pittman, così come Alex Kirk risponde prontamente Wayne Blacker con la schiacciata. Servizio, Romu Canipal. I love your friends, they're also our team, oh yeah. Ora Anto Mutti esce bene dalla trappola del pressing Pistoia e poi Cegge con il punto esclamativo su una partita strepitosa. Al palacarrara di Pistoia dove le emozioni sono sempre forti, Cegge in aria e mette a reperto un canestro spettacolare e importantissimo. Al palacarrara di Pistoia.